Buongiorno, buona domenica, buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti, ben ritrovati, come state? Bene, ottimo, adesso aspettiamo che arrivino anche piano piano gli altri nostri amici e colleghi, a me mi hanno detto che non devo stare qui, che devo stare qui perché sennò lì non ci sono le luci, però a me viene istintivamente di stare lì e allora farò un po' e un po' e si accontenteranno. Dunque, prego, prego. Allora, la giornata di oggi è dedicata agli enti locali, alla sanità, all'ambiente, ai sistemi elettorali, degli enti locali un po' abbiamo già accennato, abbiamo un po' parlato nella giornata in cui abbiamo parlato della Costituzione, vi ricordate abbiamo fatto un accenno sul tema Stato-Repubblica, qualcuno di voi se lo ricorderà, no? Perché lo Stato e la Repubblica non sono la stessa cosa, lo Stato è una delle funzioni della Repubblica, perché la Repubblica è l'insieme dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e quindi ha delle sue varianti e la Costituzione proprio prevede che appunto la organizzazione della gestione della Repubblica sia delegata a vari organismi ed enti, tutti elettivi. e qui si inserisce il ragionamento sul sistema elettorale che magari ci dà lo spunto per fare una riflessione da condividere anche con gli altri poi quando voi vi troverete a discutere nelle vostre sezioni, nei vostri incontri pubblici, nei vostri incontri anche in famiglia sul lavoro che è il tema della delega. Sostanzialmente funziona così, dovrebbe funzionare così che il corpo elettorale a scadenze determinate va a scegliere i propri rappresentanti, i propri rappresentanti negli organismi della Repubblica. C'è stato un tempo in cui questa scelta era tendenzialmente uniforme e omogenea per tutti gli enti elettivi, cioè sia per il comune, sia per la regione, sia per lo Stato funzionava tutto allo stesso modo, ovvero c'era una prevalenza elettiva delle assemblee, nel senso che si votavano i rappresentanti nelle assemblee e poi le assemblee a loro volta in seno a se stesse esprimevano gli organi apicali di governo perché tendenzialmente il corpo elettorale non vota direttamente l'organo esecutivo ma quello legislativo o normativo nel caso appunto si tratti di comuni e regioni. Le cose sono un po' cambiate dagli anni 90 e oggi noi abbiamo un sistema elettorale diverso per i vari enti, le varie strutture della Repubblica, tant'è che andiamo a eleggere direttamente il sindaco della città, contemporaneamente eleggiamo sì anche l'assemblea ma la delega è anche direttamente al primo cittadino, al sindaco, quindi l'investitura è diretta, elezione diretta del sindaco, il quale sindaco poi ha in virtù di questa elezione diretta una serie di poteri che prima non aveva, poteri discrezionali ad esempio di scegliere i propri collaboratori della giunta, il potere anche di dimettersi e quindi se si dimette il sindaco si va tutti a casa, quindi ha diciamo una certa discrezionalità anche importante il sindaco perché? Perché ha ricevuto direttamente il consenso dal corpo elettorale. La stessa cosa vale per l'elezione del presidente della regione, oggi chiamato anche governatore della regione proprio in funzione di questa riforma, cioè l'investitura è diretta, io scelgo direttamente il mio presidente della regione insieme anche agli eletti nel consiglio regionale, presidente della regione che ha più poteri di quelli che aveva prima perché in virtù del mandato diretto non è soggetto diciamo agli equilibri o non è totalmente soggetto agli equilibri che si realizzano all'interno dell'assemblea. Ci siamo fino qua? Ok. Cosa succede invece per lo stato centrale? Lo stato centrale invece funziona in un altro modo, cioè noi eleggiamo ogni 5 anni i nostri rappresentanti nell'assemblea legislativa, cioè nel Parlamento che è fatto di due Camere, il Senato della Repubblica, la Camera Alta e la Camera Bassa, cioè la Camera dei Deputati e poi all'interno del Parlamento, quindi all'interno dell'assemblea si decidono gli organi esecutivi. Quindi come vedete abbiamo un sistema elettorale che oggi potrebbe essere un variegato alla marena, cioè nel senso è una cosa che ha sfumature diverse a seconda di che cosa stiamo parlando. Tendenzialmente tutto quello che poi deve gestire un potere, tra virgolette sempre potere, va utilizzata questa parola con grande parsimonia, tendenzialmente diciamo che c'è un po' un allontanamento dal corpo elettorale, cioè ci stiamo un po' avvicinati perché abbiamo eletto il sindaco, abbiamo eletto il presidente della regione, però ancora eleggere direttamente il rappresentante del potere esecutivo per quanto riguarda lo stato sembra essere ancora molto difficile, molto complicato, è come se non ci fosse sufficiente autostima, cioè come se mancasse l'autostima, un po' come dire ma posso, sì, il sindaco alla fine posso eleggerlo, alla fine il sindaco ci sta perché alla fine che danni può fare il sindaco, non più di tanti, però è circoscritta la situazione. Stessa cosa vale per il presidente della regione, dice vabbè sì, fagli eleggere il presidente della regione, alla fine però il presidente della regione è all'interno di un sistema, di un meccanismo dove tutto poi viene compensato, in fondo poi alla fine è lo Stato che decide sulle cose diciamo quelle proprio pregnanti, importanti, soprattutto ad esempio le risorse, il fisco, insomma tutta una serie di temi, mentre invece appunto sullo Stato centrale è come se uno dicesse a se stesso beh io come faccio a prendermi la responsabilità di eleggere direttamente il presidente della Repubblica. Uno dice me la sento di farlo? Me la sento? Sono così bravo da potermi meritare di eleggere direttamente il capo dello Stato? Ma, ma. E qui intorno a questa cosa si, come dire, ogni tanto, non dico sempre, ogni tanto a targhe alterne c'è un dibattito, se è giusto, se non è giusto, se è il Parlamento, se non è il Parlamento, eccetera. Per ora siamo una Repubblica parlamentare, cioè a decidere è l'assemblea del Parlamento. Ovviamente le assemblee con tutti i pro e con tutti i contro, perché poi le assemblee, sai, metti tre persone insieme in una stanza, prendi una decisione, già è lunga. C'è il creatore di una grande multinazionale di successo che un giorno disse io quando devo fare le riunioni e devo ordinare più di due pizze so che la riunione non concluderà niente. Quindi pensa, quindi insomma c'è un po' questa cosa. Allora, a noi fa un po' paura, va bene? C'è ancora un po' questo senso di ansia, di timore a dover dare dei poteri a una persona che può fare le cose. Dall'altra parte però c'è la grande frustrazione che tu poi vai alle elezioni e leggi e poi quelli che hai eletto ti dicono che non possono fare le cose, oppure litigano, oppure ci sono i veti, i controveti. Quindi uno dice, ma scusa, ma allora io cosa ci vado a fare? A votare. Se poi sono andato a votare e quello che ho votato mi dice che non ha il potere perché il potere ce l'ha un altro, o perché ricevo i veti di questo, quell'altro, tra l'altro di poteri che non hanno mai ricevuto da me la delega. Sapete che ci sono dei poteri all'interno dell'organizzazione della Repubblica che non sono investiti della delega popolare e che hanno, tra virgolette, consentitemi ancora l'utilizzo di questa parola, visto che è molto ingombrante, che non hanno un potere piccolo, hanno un potere grande. Quindi ci sono degli organismi all'interno dell'organizzazione della Repubblica che hanno un potere grande, forse anche più grande del Parlamento che però non sono direttamente eletti dai cittadini, non ricevono direttamente l'investitura popolare. Oggi parleremo anche di questo, parleremo anche dei sistemi elettorali, di cosa potremmo mettere in campo. Voi sapete che, ad esempio, la Lega ha chiesto un referendum per la riforma della legge elettorale in senso maggioritario, un po' quello che avviene, cioè il sistema consolidato ormai in un paese grande, importante, una democrazia che proprio nei giorni scorsi è stata chiamata al voto, che è la Gran Bretagna, dove si va a votare e il giorno stesso o la mattina successiva, al massimo, si sa chi ha vinto, chi ha perso e chi ha vinto governa. Quindi questo è il dato. Mentre da noi è invece tutto un po', come dire, è un po' tutto gattopardesco, per dirla così. E quindi oggi parleremo anche di questo, dei pro e dei contro dei sistemi elettorali. Io personalmente vi dico la mia, nel senso che io ritengo che il sistema maggioritario sia un sistema che consente di avere una maggiore stabilità di governo e una maggiore linearità con la volontà popolare, quindi con la decisione del corpo elettorale di andare da una parte o dall'altra. E poi chi governa si assume la responsabilità, sostanzialmente questo. Vero è che però all'interno del sistema costituzionale, così come oggi è organizzato, il procedimento elettorale poi non conta così tanto. Perché non conta così tanto? Perché è vero che io ho una maggioranza parlamentare ben delineata, tendenzialmente ben delineata, perché poi sappiamo che il sistema maggioritario comporta delle alleanze pre-elettorali, quindi la divisione dei collegi eccetera. Qui da una parte ti dà stabilità, perché ti dice il giorno dopo chi ha vinto, dall'altra parte nel nostro meccanismo, nel nostro sistema, nel nostro ordinamento, siccome non abbiamo una forza politica che ha i voti sufficienti per da sola poter esprimere un governo, si tratta di mettersi d'accordo con delle alleanze pre-elettorali e poi si fa sempre in tempo a visticciare. Quindi è sempre un po' un terno all'otto. Però è efficace perché come abbiamo detto il giorno dopo tu sai chi ha vinto. Invece il sistema proporzionale è un sistema che favorisce di più la rappresentanza, cioè il sistema proporzionale tendenzialmente favorisce la rappresentanza rispetto alla governabilità. Quindi tu dai la possibilità a un ampio numero di individui, di poter scegliersi anche il partito, anche il più piccolino, si parlava di frammentazione del consenso elettorale. Una delle motivazioni per cui siamo passati negli anni 90 a mandare in pensione quello che fu il pentapartito, cioè il pentapartito e l'organizzazione di quei cinque partiti che davano la maggioranza ai governi dell'epoca fino agli anni 90, era quella della frammentazione, cioè c'erano troppi partiti, ognuno si faceva un partito, insomma anche con l'1,2% avevi una rappresentanza in Parlamento, dovevi sederti con tutti, fare i conti con tutti. Quindi il sistema proporzionale favorisce la rappresentanza a scapito della governabilità. Io penso questo, che noi potremmo anche andare nella direzione di garantire la rappresentanza, quindi io sarei favorevole all'elezione del Parlamento, quindi dell'Assemblea in senso proporzionale, nel senso di poter dare a tutti la possibilità di stare nell'Assemblea legislativa, ma dall'altra parte per assicurare la governabilità, consentire l'elezione diretta del capo dello Stato con tutto il mandato esecutivo sempre direttamente dal corpo elettorale. In questo modo tu hai un bilanciamento, da una parte garantisci la rappresentanza dell'Assemblea attraverso il sistema proporzionale e dall'altra garantisci la governabilità perché il mandato diretto che viene dato dal corpo elettorale al capo dello Stato lo mette nella condizione di essere immediatamente operativo, esattamente come succede negli Stati Uniti. Ovviamente qui stiamo lanciando, stiamo guardando in là, stiamo guardando la nostra visione, stiamo desiderando delle cose, non è facile perché poi il rischio un po' all'italiana è quello di fare un papocchio, siccome non vuoi il Presidente forte, allora poi dici no, non è un presidenzialismo, allora è un semipresidenzialismo, poi non sarà un semipresidenzialismo, sarà un semisemisemipresidenzialismo, per cui rischiamo di avere la montagna che partorisce il topolino perché come vi ho detto il problema di fondo è l'autostima, cioè la fiducia in se stessi. Noi abbiamo un problema tutte le volte che parliamo di Costituzione, ad esempio, la Costituzione più bella del mondo, ma dobbiamo anche sapere che il mondo in cui questa Costituzione è stata scritta non è il mondo attuale, è un altro mondo, perché il mondo abbiamo visto che è una cosa che cambia, cambia repentinamente, cambia velocemente, cambia con l'evoluzione, con la coscienza di se stessi, cambia il mondo. Allora noi abbiamo una Costituzione che si riporta delle cose che sono assolutamente ancora oggi molto attuali perché sono intenti, sono intenti, condivisibili, perché se io scrivo l'articolo 4 della Costituzione che la Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni necessarie per rendere effettivo questo diritto, a me piace questa cosa. Naturalmente poi devo fare i conti col fatto che poi c'è una realtà. Allora questa realtà che cosa mi dice? È vero, non è vero? Come più volte abbiamo detto se non trovo lavoro cosa faccio? Vado dai carabinieri e denuncio perché la Costituzione dice che la Repubblica assicura a tutti il diritto al lavoro? Capito che ci sono un po' di contraddizioni perché abbiamo una Costituzione che è piena di intenti e contemporaneamente rigida. Allora, siamo in grado noi oggi popolo attuale di questo mondo di permetterci di poter scrivere una Costituzione che sia migliore di quella che hanno fatto i nostri padri costituenti? Noi potremmo scrivere una Costituzione che sia migliore di quella che hanno scritto i nostri padri costituenti a patto che ci consideriamo migliori di loro. Ma questo è molto complicato perché, ripeto, il tema dell'autostima è un tema difficile perché siamo purtroppo cresciuti in una narrativa, in una narrazione, un'autonarrazione che un po' ci spezza le reni. D'accordo? Gli italiani sono un popolo di così, gli italiani sono un popolo di colà, gli italiani... Quante volte abbiamo sentito parlare degli italiani in un modo o nell'altro? In modo anche sempre e troppo spesso negativo. Non lo so se è vero quello che sentiamo dire degli italiani. Però abbiamo anche già visto che gli italiani non esistono. Vi ricordate? Gli italiani non esistono, il popolo non esiste, gli altri non esistono, tu esisti. Ok? Questa è la condizione di partenza. Ora, chi ci ascolta, voi eccetera, magari qualche detrattore, perché poi sai mancano sempre un po' gli argomenti per andare in fondo alle cose, no? Uno potrebbe dire, ah ma beh, ma qui si filosofeggia troppo, no? Come se tu dovessi prendere delle decisioni importanti senza andare nel profondo delle cose. E si vorrebbe che fossimo tutti trascinati da qualche titolo di giornale o da quello che ha detto qualche ente straniero, perché sapete che se arriva dall'esterno è sempre più importante, no? Tipo, ah, gli italiani sono gli ultimi nella classifica della scuola di queste cose, ah, gli italiani sono gli ultimi, ah, gli italiani si devono ancora adeguare, l'Italia è il fanalino di coda, eccetera, eccetera. Poi però vai a fare un giro un po' in tutto il mondo e sinceramente te ne vuoi tornare a casa, perché, come dire, in qualche modo un po' sgangherati, un po' così, un po' tirando, però, insomma, questo paese alla fine, bene o male, e questo popolo riesce a garantire quei livelli di, se mi permettete, anche di raffinatezza, di bellezza, che in molti altri paesi, appunto, non troviamo. Quindi bisogna anche mettere i puntini sulle i, però, ripeto, è una sfida. Ora, siccome parleremo anche di ambiente, il tema dell'ambiente è un tema molto importante, che non va trascurato, non è un tema che possiamo lasciare ad appannaggio solo di alcune forze politiche, perché sarebbe ingiusto, perché io penso che qui tra di noi nessuno abbia una cultura antiambientale, giusto, perché nessuno di noi qui pensa che l'ambiente sia da trattare male, oppure che possiamo buttare le lattine per strada o inquinare in modo così, senza ritegno. Ecco, quindi, abbiamo tutti una cultura ambientale, dobbiamo cercare di tradurla in progetti concreti, abbiamo oggi, tra l'altro, un rappresentante di un'organizzazione che si occupa di ambiente e fa delle cose e ha dei progetti veramente molto interessanti, che escono un po' dall'ideologia ambientalista, perché un conto è l'ideologia ambientalista e un conto è l'ambiente come difesa, come politica non solo di difesa dello spazio comune, ma anche di progettazione del futuro, di investimenti per il futuro. E poi c'è il tema della scuola e della ricerca. Ora, il tema della scuola e della ricerca è un tema cruciale, direi, perché dalla scuola parte tutto, dalla scuola parte quell'autostima di cui vi parlavo prima. Se tu il bambino a scuola lo giudichi continuamente, quando sarà un adulto questo si sentirà giudicato da tutti e lui stesso si autogiudicherà, perché è evidente che il meccanismo che tu impari è un meccanismo molto pericoloso. Quindi bisognerebbe anche su questo fare un ragionamento. La politica purtroppo non è molto propensa ad andare oltre, diciamo, la superficie delle cose. Quando si fanno queste riunioni, quando si parla di politica, di riforma, è sempre un parlare di cose che hanno detto altri, di cose superficiali, cercare di copiare il modello di qualcuno, non si va mai nel profondo. Cioè la cosa più difficile in assoluto, non solo per le persone, ma anche per i rappresentanti, è quello di avere le idee chiare. Cioè di sapere, la cosa importante, di sapere qual è il passo successivo. Per realizzare qualunque cosa bisogna, l'abbiamo visto l'altra volta, bisogna sapere qual è il passo successivo. Se tu non sai qual è il passo successivo non arriverà mai là in fondo. E questa è la sfida importante. Quindi su questo la politica naturalmente ha delle grandi, grandi responsabilità. Poi avremo modo di approfondire ancora altri argomenti, avremo tanti ospiti, quindi avremo anche ospiti a cui poter fare delle domande. Diciamo il nostro fiore all'occhiello come Lega, come sapete, è quello dell'amministrazione appunto dei livelli periferici della Repubblica, quindi le regioni, i comuni, gli enti locali. La Lega ha espresso una classe dirigente capace di interpretare i bisogni, le necessità dei cittadini proprio all'interno di queste organizzazioni più locali. E poi c'è un'altra cosa da dire importante, che dobbiamo riflettere sul fatto del perché vogliamo che il potere sia lontano da noi. Perché vedete, mentre tu il sindaco del tuo paese, della tua città, è più facile che lo incontri rispetto al Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio difficilmente tu puoi incontrarlo al bar mentre fai colazione o per strada e dirgli ah guarda che io ho quel problema lì, è molto complicato. Quindi ci dobbiamo anche chiedere come mai scegliamo di avere la possibilità di eleggere direttamente quello che possiamo incontrare e che però ha pochi poteri perché non ha soldi, perché lo Stato non glielo consente, perché ci sono delle limitazioni, perché ovviamente il suo campo di azione è molto ristretto e invece scegliamo di non poter avere altrettanta prossimità con il potere con chi invece le possibilità ce le ha. Quindi anche questa è una riflessione che vi lascio, poi nel corso della mattinata naturalmente approfondiamo le altre cose e magari c'è spazio anche per le riflessioni del mese scorso, insomma della volta scorsa, dove abbiamo detto tante cose, lasciamo anche un po' di spazio anche alle domande delle cose dette la volta scorsa. Dunque per andare avanti, quindi per andare a vedere, poi abbiamo anche delle belle testimonianze anche di nostri giovani amministratori, ad esempio che si occupano di tutta la parte di quelle regioni che hanno delle deleghe specifiche che la nostra Costituzione prevede, le cosiddette autonomie, le cosiddette regioni a statuto speciale che sono degli unicum per la nostra organizzazione ma che funzionano anche in un certo modo e anche bene. Allora le competenze della regione e il rapporto stato-regione e le regioni a statuto speciale però ce le spiega un docente, ce le spiega un docente di diritto costituzionale privato e pubblico all'Università di Varese ed è il professor avvocato Carlo Luccioni. Grazie a tutti.